Ci siete ragazze? Siete pronte con il vostro tappetino? Oggi finalmente si toglierò tutta questa ciccia. Ma quanti cacchio sono? Ragazzi però oggi sa da bruciare le calorie. Come sono andate le vostre vacanze di Pasqua? La Pasquetta? Io ho mangiato come un maiale, infatti mi chiamo Scegliale. E dopo quale stai io me ne vado. Sì, fanno. Ma avete mangiato? Sembra un chihuahua. E niente, se oggi volete partecipare a questo workout, cioè prendetevi un tappetino e altre cose che servono, tizi? Degli elastici immagino. Elastici? No. Per rullo? Ma non lo usiamo. Forse lo usiamo. Chi lo sa, lo scopriremo. Anche perché non abbiamo proprio una tabella di marcia fatta, quindi sarebbe un po' a caso. A caso così. Nel mezzo io sto facendo gli esercizi che trovate nel video come sviluppare il vostro tricolo del piede, che servono per riscaldarvi. Sì, è esattamente quello. Bello. Non so voi, ma io sono sul letto e non ho intenzione di muovere. E muovi sto culo. Avanti, su. Oggi, da parte che facciamo... Non voglio vivere. No, guarda, ho preso due caffè. No, no, no. Sono andata a dormire alle tre ieri sera, ma ogni volta che faccio la live... Ah, secondo me è perché sono troppo emozionata. Sì, eh sì, ora guarda che stare in live è un casino. Perché tutto questo... Beh, ragazzi, noi iniziamo a riscaldarci, se volete farlo con noi... Comunque è da un bel po' che non facciamo lezione. Io andiamo a cinque giorni. È da... sabato. È da venerdì. Raga, guardate questa. Pallina, così. Sopri i piedi. Spacca. Però la pallina deve essere di Spider-Man, eh, perché se non vale. Facciamo vedere questa pallina. Si vede? Sì, si vede che vale. Ok, ok, dai! Riscaldiamo questi piedi. Questa cosa fa malissimo. L'allenamento di oggi cosisterà. Un bel riscaldamento. Abs, addominali. E poi... Sì, però scrivete tutti, ma gli esercizi... Il riscaldamento lo state facendo o no? Perché sennò sentiamo due cretini. Beh, che lo siamo. Gli unici due cretini che fanno il workout. Non sento. C'è qualcuno? No. L'allenamento è stata sincera. Grande Chiara. Lo sto facendo con voi. Daie, Flora! Daie! Ma voi avete già pranzato? No. Ho fatto solo colazione. Stamattina ho mangiato delle uova, pomodori e pane. Grande, Karola! Sta facendo gli esercizi con noi. Che bravi i nostri followers! Oh, la schiena! Strecciamo un po' la schiena. Senza musica che si ne ha iniziato ragazzi. Lea anche. Gamba sinistra. Ritorno indietro. Altra gamba. Pinguino. Mi alzo e me ne volo. L'hai finita. Rotazione del bacino. Dall'altra parte. E uno e due. E testa! Destra! Sinistra! Destra! Io sarei una di quelle personal trainer che... può dire però... Io lo sono già! Testa! Raga, muovere un corpo che non fa lezione, movimento, cose da... Quanti giorni? Cinque! Cinque! Cinque giorni. È una roba tipo... È tipo... Come... Non so... Una bicicletta che sta in cantina da 40 anni, senza olio. Che provi a girare la ruota così. Panico. Anche tipo il telefono, vedi come stanno scrivendo. Efficaci questi esercizi. Eh? Ragazzi, il riscaldamento, eh? Con calma. Il riscaldamento, non possiamo partire subito con gli altri. Eh, lo spacco subito. Dopo 5 giorni. La canottiera... Ah, Cinese è un camaleonte, è vero. Perché? È lo stesso colore del muro. Verrete a Firenze, magari. Magari, se ci invitate. Vorrei fare un workout con voi, ma i compiti. Ad una mezz'ora di workout che ti costa? È... Da Pompea a Giugno? Sì, dovremmo esserci. Ciao Angelica. La Foggia è... Ragazzi. Iscriveteci... Contattate qualche scuola, veniamo a fare uno stage, ma... Se no, come ci veniamo? Se in casa non spazio e fuori fa freddo, come faccio? Dai, non hai tipo un metro quadrato? Due metri quadrati? In corridoio, in cameretta, di fianco al letto... Sta mangiando il cioccolato. Ma come allenate gli addominali bassi? Eh... Aspetta... E' una nuova cancio grigia. Posso fare esercizi anche se ho dolore al collo e nel corpo dovuti all'amico lattico. Assolutamente! Se hai mali muscoli devi fare esercizi. Quindi ho fatto passare mali muscoli. Fare esercizi. Esercizi. Stretching. Stretching. Roll. Questo è utilissimo. Io domani che riesco a portare il colpo? 3 metri quadrati. Eh, sono enough. Sono abbastanza. Sì, ci sono! Ho risposto! Sì, ci sono a giugno. Direi di sì. Se non muoio, sì. Vigevano. Dov'è? Provinci e ti va via. Eh, bu. Raga, non lo so. Sulla luna ci andiamo? Ci andiamo sulla luna? No, intanto. Vabbè a leggere a fare. Sì, ci sto po' prendi. Tantillo. Sì, ma lei mi ha portato il messo. Da dove proveniamo noi? Dal Giappone. Dal Giappone con furore. Mi sta mangiando al San Carlo. No. Al San Carlo. Lei San Carlo. Oggi inizia l'allenamento. Ecco, inizia con noi. Raga, tre verifiche, due interrogazioni. venerdì e sabato, tutti i compiti iscritti. Ragazzi, mezz'ora a fare il workout? La trovi. E chi sono i colleghi ai compiti? No. Prima i compiti. Comunque è bello vedere Scenella che salta e corta. Casale, poi ci siamo sui due. Tutto tranquilli. Raga, io devo leggere i commenti. Scenella sullo sfondo fa troppo ridere. Eh, raga, ma che devo fare? Nuda. 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 Ieri mi sono rotta un dito. Mazza, come hai fatto? Del piede? Delle mani? Mi salutate? Ciao Giovanna. Noi scriviamo e non facciamo esercizi. Grandi! Ottima questa live. Ehm... Vorrei poter avere una sbarra in camera mia. Anch'io vorrei. Ok. Vorrei. Ma non posso. Un canguro sta su uno sfondo nero e un bianco lui risalta. Cosa? Io sono un canguro. Cosa ho detto? Veniamo a Roma. Grande. Ah, la scuola di danza è grande come una casetta di campagna. Viva danza. Viamo, adoro, rispondi. Rachele, a che cosa? Delle piazze di quella d'Italia vigevano. Dico. Ma Michele, Michele, ragazzo, abbandona. Quando c'è da lavorare, Michele si ne va. Sta lavorando, lo stiamo facendo troppo. Fai allenare tiziano che non fa niente. Però ho scritto con... Ah! S-C-A-C-I. Ragazzi. Vedo. S-C-I-N-I. 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 Vabbè ragazzi, ormai... Chi è il cane più povero? Il barboncino. Sto mare. Diciamo che stavario. Ok, che zona siamo? Raga si può dire. Eh, no, ragazzo, c'è poi in sotto casa. Che stalker siete? Ok, dai, iniziamo, iniziamo. Vi siete riscaldati per il momento. Siete cazzo, viri, guardate. Sì, eravate come me o come Tiziano seduto per terra? Sei pronto laggiù? No. Fa delle cose strane. Un esemplare di Bruco, quindi, che cerca di annusarsi i piedi. E nel frattempo cerca il cielo, sull'altro. Così annusa le sue scolegge e così annusa i suoi piedi. Mi fa ridere che mi rompo il naso. Ah, quanto sono bello. Raga, ma perché quando rido sembro una gallina? Io ho questo problema. Poi quando rido faccio così con la testa. Prima o poi mi farò male al collo. Sembri una rama, qua, dicono dalla regia. Abbiamo deciso di fare... Ci siamo segnati degli esercizi da fare con voi. Allora, riscaldamento, più o meno, l'abbiamo fatto. Ok, tizzi, iniziamo. Bicicletta Steven, c'è scritto. Dovete comprare una bicicletta da Steven. Quindi, sei esaltato. Ma quanto è bello, Tiziano. Ehi, mi sto scaldando. Quindi, alterno le gambe. E poi faccio la bicicletta al contrario. Qui, un attimo momento di defaianza perché la coordinazione è molto importante. Quindi, bicicletta al contrario. Sento bene gli addominani. Gambe sollevate. Anche collo sollevato. E vado. Ma sembra che non sia perlino sbagliata. No, è giusto. È come nel video. Tiziano è una pera. Lo sappiamo. È una pera? Sì. La coordinazione è molto importante. Mi sto rompendo una gamba aiuto. Ma come fai a scrivere? Così senti bene l'addominale basso. Ma piedi flex, no? Ah. Senti questo come. Giulia, il Polito, ha scoperto di avere lo stesso culo di Tiziano nelle vie della spaccata per un'ora. Ragazzi. Impossibile avere il mio culo. Dall'altra parte. Comunque, come si è andato indietro? Aiuto. Ho il fiatone. Sì. Noi, saluta Bibi. Ciao Bibi. Sì, sassaro, stagio e pagamento ovviamente. Dobbiamo pur vivere, no? Il compleanno mi saluto. Ciao Miriam, tanti auguri. Auguri. Quanti anni fai? No, non ti fiamo calcio. Sì, io ti po' prego. Sei troppo forte quando ridi. Diciamo che questa esercizio la stiamo facendo molto bene. Ok, a meno lo so fare. Aspetta. Ce l'ha la sicura? Aspetta. Guarda che è il fiatone. Guarda, guarda. Mi seguite su Instagram. Quindi, schiena su. Elastico dietro. Il piede. Aspetta qua. Molti commenti. Io non ho l'elastico. Me lo vado a prendere oggi da decathlon. Grande. Quanti ne stai facendo? Madonna, ma sei rossissimo. Ragazzi, ovviamente respirate facendo questo esercizio. Cambio. L'ideale sarebbe di farlo sventi con una gamba e venti con l'altra. E' altre note. Ah, va bene. Sì, non ce l'hai più. Adesso, eh, ma come facciamo qua? Ci si vede solo. Allora, come c'è fatto? Io me la schiena faccio con il sinistro. Com'è che l'hai messo? E no, perché? Per far capire anche agli altri. Per far capire agli altri. Così? Così. Adesso fai un giro. Appoggialo. Ok. No, attiva tu il piede. Adesso fai due giri. Dietro, anche l'altra parte. Anche l'altra. Ma no, no, no. L'altro. Bravissima! E adesso? Adesso, tu giri. Adesso mi giro. Cos'è fatto? Mi sono ribantata come un cotechino. Un cotechino. Io sono un cotechino. Dopo Pasqua e Pasquetta, sicuramente. Quindi, passo l'elastico dall'altra parte. Schia... Orca miseria se si sente. Mi ascolta un attimo. Tutto a posto! Sto morendo! Ehi, venti... Porca miseria. Questo ti aiuta per latitude. Incrociarmi nell'attitude. Respira. Veramente, bisogna respirare. Ultimo. Comunque, io non so quanti mi ho fatti. Ma io non so neanche come li sto facendo. Sembra tipo un cotechino ribaltato. Ehi, via! Ehi, via! Addio, ma finisci! Già, l'altra volta mi ha lanciato il sospensore in faccia. Che schifo. Avete visto il corrosponde? Shinai, ma voi non vi fate male. Molto. Molto. Un cotechino scherziato. Dai, dai, gli addominali, ragazzi. Dai, ragazzi. Mettiamo il cronometro. Mettiamo il cronometro. Che brutto però non vedere i commenti. Vabbè, ragazzi. Bruttino. Bruttino. Digerita. Ok. Ah, una cosa. Vai, quattro volte otto. Hai. Ragazzi, quando avete un cronometro è troppo difficile prendere il telefono perché, come adesso, quattro volte otto funziona sempre. Ci sei? Senta preparazione. C, se, se, o. Uno. Due. Sì, ma io non posso leggere i commenti in cui scrivono. Hashtag Scina in Cotechino. Gli fa malissimo il frenore. Ma che esercizio stai facendo? Hai ragione, Angelica. Continuiamo senza fare troppe interruzioni. Io sto già tremando come un ciguavo. Vai. Laterale. Qua l'importante è stare dritti dritti, eh. Non niente cose strane. Non fate queste cose qua. Sare dritti dritti. L'ultimo. Cambio. Su. Respiraci. Vai, respira. Eh, sto respirando, ma sto cercando anche di leggere i commenti. Mi sto facendo molto male. Voi anche. Dai, credo in voi. L'ultimo. Chiara, non fare la furba. Fai gli esercizi. Qua. Sì. Sette. 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 Prendo il sole. Prendo il sole. Sotto il sole. Sotto il sole. Ma io non so neanche lo sento. Cos'è facile? G. Sette. Non so se. Però si sente comunque. Quanto siamo? Ultima. Questo è solo per i maschietti, se ce n'è qualcuno che ci sia. Ma io faccio quello classico. Qua mi stanno dando i nomignoli. Shinai, ecotechino, Shinai, chihuahua. Gambe leggerne. Ale. E smantisci queste costine. Sarà, io non lo faccio, mi diverto troppo a vedervi soffrire. Fantastica. Nice. Ok, io ho finito le serie. Comunque sarebbe figo creare un'applicazione sugli esercizi per i ballerini. Un'applicazione? Sì. Eh, creiamo un'applicazione. Giorgia, io sono appena stata al You Can Eat. Allora non vi farei gli esercizi. Possete aspettare di digerire. Alla fine noi volevamo allenarci, no? E abbiamo detto, facciamolo in live così. Alla fine ci stiamo solo... Cazzeggiando. Cosa stai sentendo? Oh, ciao Giada. Sfida a chi fa più addominali. Eh vabbè ho vinto. Sfida. Titolo epico. Titolo epico. Sfida a chi fa più addominali. Ok ragazzi, sfida di chi fa più addominali. Eh ma così mi si vede poi il doppio merito. Cioè se mi alzo così, mi si vede poi il doppio merito. Io mi metto lateralmente. Ok ragazzi, chi vince? Tiziano Cinae, sfida epica addominali. Vico io. No, mi chiedo. Vai. Tre, due, uno, via. Uno. Cambio. Cambio pure le gambe, gli ho visto? Sei, sette, otto. Alzo. Cambio, eh. Cambio. Uno. No, non ce la faccio più ragazzi. Sto morendo. Giù. Uno. Io non sto più contando. Perché ti conto con una rapaglia. Questa risotta mi ha creato un po' di problemi. Ancora? Ma poi cambia esercizio. Ah, lo cambio. Aspetta, finiamo questa serie. Laterale uno. No, è che ne sono presa troppo. Ne sono presa troppo bene. Ne sono presa troppo bene. Tra poco ci saranno le foto di Matiziano che lo mettiamo nel cesto. 5, 6, 7, 8, incrocio. Vado. Io sbatto la testa contro. Cosa stai facendo? Eh, stavo sbattendo la testa contro il pomodino. 5, 6, 7, 8, e cambio! E ride. Pizzi, io so già che dopo starò male. Io so già male. Comunque questa live sarà cancellata. Sicuro. La prossima volta saremo preparati. È in orario, aiuto. 6, 7, 8, 1, Cioè devi andare avanti. Porca miseria, questo perché ho deciso di fare questa serie? No, questo no, cambia tu, per favore. Cambia ora! Via, non puoi farmi questo! Faci, dai! Forza! Io continuo comunque! Nella mia strada. Concentrazione. Super Saiyan, uno! Vabbè, comunque. Ho cambiato serie. Ho cambiato serie? Mai sotto il culo? Però non devi controllare. No, no. Su le gambe. Ah, sì. Non so se si sente. Ahia, quello era mio dito! Poi vedi che è passata mezz'ora. Ho stato un'ora, sono un'ora di live. Ah, il silenzio significa che stai iniziando a soffrire. Sono andando come un magliano. Tu sei un magliano. Io sono un magliano sull'uscita. Come un cinghiale. Cambia serie, non ce ne faccio! Uno, due, rimani su. Oh, è dura a morire. Speravo di doverle fare di me. Tizzi, per un po' ti lascio, eh. Tizzi, non mi lascia mai. Aspetta, ne ho uno bellissimo. Mani qua. Sul bacino. No, io non passo. Ma è una schiena. Cambio! Ma aspetta, ne ho un po' te l'ali. Le cacchie sono? Ma cosa fai con la testa? Sto ballando. Però si sente. Sì, ma cosa? Stai facendo niente. Devi andare su. Raga, ho perso. Ho perso. Però voglio continuare questo allenamento. Ho perso. Ma vabbè. Dobbiamo lavorare a terra, eh. Ti sudato. Dobbiamo creare, cioè, l'obiettivo in realtà di questa live, che non stiamo facendo, era crearci delle sequenze che poi sapevamo da saper bene e farle. Ma siamo arrivati un po' impreparati. Tutta colpa di Pasquetta, eh. Colpa di Pasquetta, eh. Pasqua e Pasquetta ci hanno devastati. Ha vinto! Ahina! Come l'ha scritto? Ahina! 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 Vabbè, per voi amici. È stata in spaccata per un minuto, dai. Dai, se può fa, se può fa. Aspetta un attimo. Allora, lei gli fa male la schiena quando fa gli eserciti per addominali? E gli... Ma gli dà un fisioterapista? No, magari metti un tappetino a terra, no? Poi perché ti fa male la schiena quando ti risulta? È assurdo che gli faccia male la schiena. Devi capire se li stai facendo bene e poi se persiste fatti vedere da uno specialista. Vi prego, fate un'applicazione per ballerine. Vedi, ci sta. Allora, facciamo. Chorus workout. Ci possiamo pensare. Help! Quanti spaccate cose? Sei fortissima, più forte è Shinai. Scusa? Mi scusa anche Shinai. Come si scrive Shinai? Si scrive S, H, G, G, Y, 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 Y. Epsilon, X, W, Z. Esatto. Bravo. Provateci. Un consiglio per chi non mi ha avuto sulle cosce. Ciclette. Ha resistenza a zero per un'ora e mezza. Quattro volte a settimana. Va bene, una resistenza a zero in ciclette fa snellire le gambe. Quando lei non viene a arrivarsi, infamare il collo. Ma scusa, se non è stato per chiedere sulle gambe così? Non devi utilizzare il collo. Non devi utilizzare il collo. Che cosa hai fatto? C'è? Che cosa hai fatto? Che esercizi ho fatto? Squat, fai gli squat. Gli squat. Esercizi per le pirouette. Quelli che fai a lezione vanno benissimo. Se no puoi prendere tipo la balance board e ti metti in gradovera passe e stai lì. Così. Va bene, io direi che la live finisce qui. Viva la Pasqua, come scrive Simona. E viva la Pappa. E viva la Pappa. Adesso ne andiamo a mangiare. Se volete un'altra live di workout, però la prossima volta la faremo fatta bene. Non improvvisata come oggi. E la faremo. La faremo. Prendete il vostro tappetino, non fate finta di fare gli esercizi. E fateli con noi. Sinai, cotechino. Ragazzi questo hashtag sono l'inventrice. Inventrice. Sinai, chihuahua, cinai. Cioè è proprio bullizzata da voi. Ma sì, ma che poi sono stata io a creare questo. Ragazzi, create i gruppi. Oppure photoshopate la foto di un chihuahua. Secondo me nessuno ha fatto veramente gli esercizi. Comunque. No, non lasciateci, no. Ma ti stavi drogando? No, noi siamo già drogati. Le produciamo internamente. Se abbiamo delle a corpo. Non abbiamo bisogno di droghe. Per sballarci. Basta stare con Cina in cinque minuti. Di sbagli.